Ciao a tutti, mi presento, io sono Deborah Macchi e ho 24 anni e sono di Genova. Sono un insegnante di danza e una ballerina di popolo. Ho deciso di intraprendere questo progetto circa tre mesi fa, proprio perché la mia passione più grande è viaggiare e conoscere tantissime persone. Grazie a questo progetto ho conosciuto Matteo Strano, che ringrazio tantissimo, lui è una persona fantastica. Insieme stiamo collaborando e mi sta aiutando con i suoi consigli per la crescita personale. In questo momento io vi sto parlando, sono in provincia di Agrigento, guardate che meraviglia, e ragazzi vi assicuro che è stata la scelta più bella della mia vita, perché io in questo momento mi sento libera e credo che sentirsi liberi sia la cosa più bella del mondo. Sono sicura che ci vedremo nel prossimo viaggio tutti insieme in questa grande community. Grazie.